Elisa Coclite in Arte e Casa di Lego è una dei quattro finalisti di X-Factor 2020. La 17enne di Montore Albomano, come ricordato in puntata, deve la sua grande passione ai genitori. Suo padre Massimiliano Coclite è un celebre jazzista, mentre sua madre Alessia Marteggiani è una cantante e insegnante al conservatorio. Elisa fin da piccola ha studiato pianoforte e chitarra e trasmette emozioni a chiunque l'ascolti. La semifinale di X-Factor, di Casa di Lego, è iniziata con l'emozionante duetto accanto all'Azza per la canzone Catrame. Due pianoforti sul palco che hanno catturato l'attenzione del pubblico e dei giudici. Un pezzo veramente costruito bene, stai bene ovunque, sei bravissimo. Emma ha giudicato l'interpretazione impeccabile. Per mica la luce di Casa di Lego non è stata appiattita grazie all'atmosfera creata, in grado di difendere le fragilità di Elisa che sono anche la sua forza e il suo giudice Erratone è emozionato, sottolineato la sua bravura. Nella seconda fase, denominata My Song, Casa di Lego, ha scelto Lego House di Ed Sheeran, canzone alla quale tra l'altro è legato il suo nome d'arte. Emma ha invece commentato, prova tutto quello che vuoi, non c'è niente di male a stare dove si sta bene. Per mica sei tornata con la voce giusta, questa canzone ha colpito. Infine Erratone si rifà la canzone di Ed Sheeran e chiede a Casa di Lego di aggiungere un mattoncino a questa casa. In finale la prossima settimana Elisa dovrà vedersela con il Little Piece of Marmalade, Knife e Blind. Ma siamo convinti che il suo paese Montorio e la sua regione per la finale saranno pronti a fare la propria parte, facendogli sentire la loro vicinanza votandola.